Finalmente si apre con i primi ricoveri in terapia subintensiva. Sì, questo è quello che si voleva. Abbiamo completato tutto l'iter organizzativo e definite alcune situazioni interne per far sì che non vi sarebbero stati problemi anche per i pazienti nel momento del ricovero. Da giovedì entreranno tutta la parte della pneumologia e verrà ricoverata al primo piano appena ristrutturato. Si parte con la terapia degli anticorpi monoclonali? Assolutamente sì, si parte domani. È una terapia che darà speranza, nuova speranza ai pazienti covid positivi. Sarà rivolta soprattutto ai pazienti asintomatici e paucisintomatici covid. Verrà attivata dalle malattie infettive coordinata dalla dottoressa Antonella D'Alonso e dal dottor Delle Monache. È stata istituita un'email specifica dove i medici territoriali, cioè quelli della medicina di base, pediatri libera scelta e quelli dell'USCA, potranno candidare i pazienti che potranno accedere a queste cure con gli anticorpi monoclonali. È molto importante vaccinare le persone allettate a casa? Sì, è molto importante perché risultava altrimenti una categoria messa in disparto oppure comunque che venisse fatta a fine campagna vaccinale, che non ci sembrava corretta. Quindi abbiamo istituito questo servizio domiciliare che noi già facciamo come assistenza domiciliare, l'abbiamo integrato con altri medici vaccinatori e altri infermieri. Quindi è un lavoro difficile perché significa girare tutto il territorio, contattare precocemente anche in anticipo i pazienti, fare un calendario vaccinale, poi vaccinare anche il caregiver. Quindi diciamo che abbiamo preso, ogni giorno riusciamo a fare dai 50, 60, 70 persone al giorno con 12, 13 ore di lavoro. Quindi non è una cosa semplice, è una cosa impegnativa. Siamo una delle prime varie sanitarie che ha iniziato questa campagna vaccinale in questo modo. Ne è fonte di orgoglio, ma ci vuole personale dedicato e un lavoro dietro le quinte abbastanza abbio e impegnativo.